Ringrazio perché è ritornata qui con noi nei nostri studi Cecilia Hatchel. Già lei, l'abbiamo detto, che è l'importatrice italiana della Lombardia Drinks. Abbiamo parlato con lei di questi prodotti che sono davvero speciali perché sono biologici, sono vegani, quindi noi li amiamo moltissimo. E è stata davvero brava perché la ringrazio e ci ha portato qui nei nostri studi direttamente da lei, belgio, l'ideatore della bevanda, la bevanda più cool del nord Europa, la Lombardia Drinks. E abbiamo qui con noi Alain Indria. Grazie, buonasera per essere qui nei nostri studi. Sappiamo che lei parla un pochino di italiano, però Cecilia è molto brava con l'inglese e quindi sarà la sua traduttrice per questa puntata e la ringrazio. Spero riesca a seguirci un pochino nei nostri discorsi. Allora, sappiamo che lei è davvero l'ideatore di questa bevanda che piace tantissimo. Piace molto qui in Italia, ma è anche la bevanda che piace molto ai VIP. Ha detto che l'Italia è... È una bevanda leale anche, no? Sì, poi ha detto che essendo biologica comunque l'Italia è avanti rispetto al bio. Ah, davvero? Sì, rispetto ad altri paesi. E senza glutine anche. Sì, senza glutine. E questa è una cosa importante. E quindi tra i suoi, diciamo, fruitori di questa bevanda ci sono anche, non so, per esempio, attori, cantanti come William Defoe, David Guetta. Quindi lei conosce davvero tante persone che... Si sa, no? Che nel mondo del spettacolo ci tengono molto alla salute e all'alimentazione. E in the show business they care a lot about their health. That's for sure, but also... Sicuramente. But also for something else they like to promote, because my mom had one of the very first organic food stores in Europe. Mia mamma ha avuto il primo negozio organico di alimentare in Belgio. E' un'impresa familiare da 72. And organic and vegan certified. E' certificata bio, vegan. That's how Sting and all the other ones want to promote us, because they say that's incredible what your mom... Sì, per quello che Sting, William Defoe, Moby, promuovono volentieri il business di Alain, il locale che c'è in centro, Danversa, dove loro vanno. Ecco, tra le altre cose, quello che piace molto anche a me, ma anche chi ama la salute e il benessere, è la sperimentazione, la ricerca. Devo dire che lei è stato un grande scopritore, partendo proprio dalla sua esperienza. Nonostante lei venisse comunque da una famiglia che fosse molto attenta da un punto di vista salutistico-alimentare, perché già dal 99, come già abbiamo detto, sua madre è stata una delle prime... Dal 72. Dal 72, a livello europeo, a fondare questo negozio macrobiotico, lei aveva dei problemi di salute, era in sovrappeso, 99 kg. Come un ragazzo bio, lui mangia solo bio. Ha detto che nel suo negozio vedeva un sacco di... come era un negozio dietetico, vedeva un sacco di belle donne, belle ragazze, e si è detto, non posso andare oltre il 100, perché è troppo. E la cosa peggiore è che aveva sempre fame. Mangiava sempre cose molto sane, però non riusciva a dimagrire e aveva sempre fame. Poi ha visto molte diete che vanno e vengono, quindi la Atkins. Sì, è stato il primo che ha iniziato, poi ne ha viste passare molte nel suo negozio. Montignac, poi quella del gruppo sanguigno. E ha visto queste donne dare il loro meglio per cercare di seguire la dieta e per perdere peso. E lui non voleva fare tutto. Quell'impegno non lo voleva meno. Le donne sono più brave in questo. Con la sua competenza e la sua esperienza ha voluto creare qualcosa di molto salutare per se stesso. Ha l'intestino molto sensibile, non può mangiare la chia, inizia a sudare, a fare anche male di se. Molti prodotti che puoi comprare per dimagrire hanno dentro la senna o comunque aiutano il transito intestinale. Irritano comunque l'intestino, la funzione è un po' irritante. Lo stimolano. Allora ha detto, dai Al, Alen, ha parlato a se stesso e si è detto, datti una mossa, cerca di far qualcosa che ti toglie questa fame continua e che ti aiuta a perdere peso. In modo salutare. I know that if I would make something that I have two daughters, that they would for sure go and drink it and so that was one of my first things to make. Con tanti figli, lui ha tre figli, due ragazze in casa, doveva anche essere senza rischio. La mare del nord, eh? Sì, quello è il mare del nord. La sua paura è che i suoi figli bevano in giro e trovano e devono poter bere quel che trovano in casa perché lui non vuole le cose per adulti, le cose per bambini. Perché Skinny Love è un nome molto carico e per sicuramente le cose per farlo. Ogni ragazza che senta di tutti che è Skinny Love dice che sono interessato. Sì, perché con un nome del genere comunque l'interesse è altissimo e chi vuole trovare il peso forma e vuole magari dimagrire ci si butta. Quindi lei è passato praticamente da chef perché comunque avete anche questo non è solo negozio ma anche... I'm still a chef ancora è uno chef ancora è uno chef quindi aveva questo problema di sovrappeso ha deciso di passare tipo da grossista a anche ricercatore e ha ideato questo prodotto che a base di temacia di limone di pompelmo di zenzero di acacia di caffè verde basilico rosmarino perfetto anche altri ingredienti il tutto per perdere peso per riuscire a perdere questi modi 99 kg quelli di troppo e c'è riuscito direi un mese è stato impressionante come è andata la storia 100% naturale ovviamente naturale biologico vegano senza glutine non è ancora biologico ci lavoriamo è naturale sì è un prodotto naturale quindi non ha un effetto immediato non è che dopo una settimana vai sulla bilancia e hai perso sì non è un affetaminico è naturale prende il suo tempo anche perché ti rieduca al gusto quindi quanti chili ha perso il primo mese nove e mezzo nove chili e mezzo ma facendo un tipo di dieta particolare o no stavo mangiando come prima a tre aziende non ha tempo di andare in palestra però stava già mangiando lui già mangiava sano è certo perché nel settore il problema con tutte le persone nel sud è che il problema di noi dell'occidente è che mangiamo troppo abbiamo una quantità deve avere molta disciplina per ridurre la quantità di cibo è molto difficile quindi lui mangiava anche perché è lo stress da avere tre aziende i figli mangiava dopo il quarto giorno che ha iniziato a prenderlo si stava mangiando mangiava sempre biscotti di farro con cioccolato solo con la zuppanica bio eh organica e sempre cinque perché nel pacchetto ce ne è cinque sei nel pacchetto uno per la moglie e cinque per lui non ne mangiava più cinque ne mangiava mezzo uno proprio e poi da quel giorno ho iniziato ad avere molto meno attacchi di fame questo l'ha anche rilassato perché non era tutto il giorno a cercare di trovare mangiare aveva un certo punto ma a tempo libero perché non all'ottavo giorno ho iniziato proprio a perdere del peso ma penso che è molto importante non è una gara di perdita di peso quindi quanti chili ha perso in totale? 21 21 21 in un anno sono tantissime e questo quando è successo? quanti anni fa? è come un grande anno è come 13-14 mesi 14 mesi fa ha iniziato circa complimenti grazie ci dirà poi segreto come funziona oltre al segreto ma è vogliamo sapere perché poi c'è tutto un protocollo come lei spiegava magari anche Cecilia ci spiegherà magari meglio in italiano come funziona perché chiaramente c'è poi la mattina la sera il prodotto varia a seconda dei momenti della giornata forse presumo anche in base all'indice glicemico perché comunque so che è molto attento a questa ricerca sono studi ovviamente che vengono sappiamo lei è un conoscitore di tutte le diete quindi è molto molto all'avanguardia io vi ringrazio per questa presentazione ovviamente parleremo di skinny love come si prende quali sono gli ingredienti che ci sono al suo interno e come funzionano e come funzionano sul metabolismo bene tornati in studio dopo questa breve pausa pubblicitaria come già vi ho detto parliamo con Cecilia Eccel di Alain e con Alain Indria e parleremo appunto di skinny love quello che non abbiamo detto all'inizio è che Alain era un grande surfista sportivo ha girato tutto il mondo era vegano macrobiotico crudista e quindi lei non è mai stato un grande bevitore di tè di caffè ma è sempre andato alla ricerca delle spezie o comunque degli ingredienti naturali e salutari quindi sempre andavo a guardare e cercando di spezie e di herb e di natural taste e io surfava con un famoso italiano Cesare Cantagalli ah e surfava con Cesare Cantagalli un famoso surfista ah però sì un altro segreto l'uomo il gatto dalle sette vite Alain e quindi lei le spezie che poi comunque gli ingredienti che ritroviamo all'interno di questi prodotti lei li ha un po' sperimentati viaggiando in tutto il mondo loro acquistano direttamente dall'agricoltura dal produttore in India e in Giappone con un'associazione no profit quindi hanno anche la certificazione fair trade e ci tiene molto è stato in India da poco quindi contro lo sfruttamento magari delle popolazioni locali e anche direttamente alla fonte per essere sicuro di non comprare qualcosa che non sa quante quante etichette quanti giri ha fatto proprio come lo raccontava oggi in macchina lui la curcuma la prende direttamente dal campo dove farà l'anno prossimo si dove la prende la curcuma nel sud dell'India quindi lei è stata anche là direttamente a vedere si 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 segui su facebook ci sono tutte le dirette dove va cosa fa si perché è tuttora la ricerca degli ingredienti si 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 è un lavoro a tempo pieno cercare con il clima che cambia così tanto il clima globale è un lavoro molto difficile avere la continuità del rifornimento ecco perché cambiano le zone dove poi tu trovi dove c'è la coltivazione diretta si allora parliamo appunto di skinny love che è questa bevanda alimentare a base di fibre della frutta fibre alimentari prebiotiche ed erbe selezionate che in una dieta comunque sana possono contribuire al raggiungimento del buon pesante sovrappeso forma allora come mai gli è venuto abbiamo detto che all'inizio gli è venuto in mente di creare questa bevanda appunto perché lei aveva questo problema di sovrappeso ha deciso di riunire in questo unico prodotto tutti questi ingredienti salutari e ha avuto un grande successo quindi ha voluto condividere questa sua scoperta anche con gli altri so you you were looking for a solution for yourself and then you found it for yourself and then you shared it with the others and then you found out that it works with others and what can you share with us of that experience as we have the organic and diet store since 1972 so I have a lot of ladies and boys coming in la storicità del negozio del 72 che si occupa del benessere delle persone gli porta a avere un pubblico ampissimo di donne uomini ma tante donne molto attente alla linea and they saw me shrinking e hanno visto come lui perché lui lui fa parte io sono stata nel suo negozio per tre anni a colazione a pranzo lui era rotondo simpatico you were round simpatico apprezzatissimo da tutte le sue clienti perché lo adorano e l'hanno visto diventare magro quindi l'hanno proprio qua eri ancora e allora queste clienti guarda che sarà come tutte le diete ringrasserai quindi non essere così contento perché tornerai grasso sì magari con la giuta di qualche lille sì esatto con gli interessi esatto e siccome non è successo non è tornato a prendere peso e allora l'hanno reclamato l'hanno voluto e io penso anche normalmente quando fai una dieta sei in un mood e non anche una cosa tipica che vedo anche su di me che lo sto iniziando a usare quando inizi una dieta non è che sei di buon umore subito no sei sempre abbastanza intrattabile e invece senza forze un po' irritabili sì con Schirinov invece i primi effetti prima di dimagrire sono che stai bene perché il corpo ringrazia di questo quest'alimento queste sostanze così benefiche ecco Alain è un grande ricercatore you are a big researcher anche lo si nota dal fatto che non ha fatto un assemblaggio cioè ha messo insieme tot diciamo ingredienti così a caso lei conosce molto bene anche la medicina ayurvedica quella orientale ed è per questo che lei ha deciso di fare due tipi diversi di prodotti uno per la mattina e uno per la sera uno in e uno young uno per dare energia e l'altro per dare relax quindi la mattina ti dà energia ti attiva il corpo quindi molta vitamina c limone italiano siciliano biologico per bruciare i grassi freschi i grassi giovani quelli che hai appena messo nel corpo magari la cena prima il pomeriggio invece è l'opposto quindi ti rilassa il corpo e per bruciare il grasso invece più vecchio quindi lavorare sulla parte più consolidata l'adipe è quello che non ci molla quello affezionato e ti fa anche dormire bene quindi gli ingredienti sono diversi vediamo un po' quello della mattina c'è dentro anche il caffè verde il tè macia poi abbiamo che cosa anche dentro ortica rosmarino limone pompelmo e tutti questi ingredienti mela e fico d'india l'acaccia la clientela lui ha una grande clientela di modelle che vanno a Lombardia a chiedere i succhi perché lui da sempre che fa succhi freschi centrifughe e quindi pompelmo quindi la sua ricerca unita anche all'esperienza di quello che chi sta attento al peso sceglie per sé ha messo insieme questa misa e quindi al mattino senti proprio con l'energia si poi chi mi segue perché anche io seguendo un po' le sue orme sono sempre su facebook o in diretta o con foto mi sveglio presto e mi si vede che l'energia c'è dopo tre o quattro giorni dice inizierai ad avere meno attacchi di fame chiamiamoli e poi inizia l'azione di brucia grasso sempre lento parliamo sempre di un prodotto naturale quindi ricordiamo che nel suo caso parliamo di un anno 20 kg in un anno come lavora sul corpo questo prodotto? quali sono i prodotti? la pallet no ma la funzione sì la funzione è come come ho detto per la mattina per esempio l'interno il turmeric è una cosa fantastica per bruciare tutti i fatti ma bisogna lo mettere insieme con il pepe altrimenti non funziona per esempio la curcuma col pepe nel pomeriggio che attiva il bruciamento dei fatti dei quali vecchi sì sì quindi ogni herba e ogni ingrediente ha una cosa differente nel corpo ma insieme funziona veramente perfetto ogni ingrediente e qua faccio un intervento locale abbiamo dato in carico alla società italiana medicina naturale di fare il dossier scientifico di skinny love è in ultimazione quindi chiunque poi ce lo chiederà sarà disponibile e può andare con tutti i riferimenti degli studi abbinati a quella funzione con quell'ingrediente ma è vero che chi utilizza questi prodotti per esempio ha anche un miglioramento dello stato della pelle magari meno dolori alle articolazioni non lo so come ragazzo come uomo non guarda la sua pelle così tanto ma molte donne e clienti sono arrivate sono tornate hanno detto la mia pelle è migliorata e mi aggiungo anch'io perché effettivamente ho avuto un miglioramento ecco ma lei che è un grande amante della cucina fresca quindi della frutta e di tutti gli ingredienti freschi infatti utilizza lei lo diceva o le verdure direttamente oppure fa estratti o succhi come si fa? cioè come ha fatto non perdere le qualità organolettiche del prodotto naturale e riportarle in l'ingrediente che comunque lo vediamo è una polvere non freshe in powder che ancora funziona è come il tè verde matcha quindi viene essiccato a freddo non sopra la temperatura del corpo possiamo vederlo magari questo è quello della sera no? ok questo è quello del mattino che c'è dentro caffè verde è più verde tè verde matcha verde verde mattino sì sì e quindi si 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 qui viene essiccato a temperatura corporea quindi non sopra 37 gradi 42 quello che poi ti fa quando la febbre diventa pericoloso e poi viene macinato macinato molto lentamente per ore quindi non c'è una non c'è creazione di calore con la macinazione difatti quando lo si usa tende cioè non è una polvere sottilissima sottilissima sì bisogna sempre poi mescolare shaker 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 si le fibre prebiotiche aiutano l'intestino lo puoi prendere quanto vuoi perché ricostruisce la flora sì la flora una cosa così non ho però poi guardi gli ingredienti leggi ti informi e non c'è niente di criminale cioè niente di illegale niente di strano non è diuretico non è lassativo non decompone i muscoli un aspetto molto molto importante un aspetto è il paletto l'educazione questo posso confermarlo perché noi abbiamo provato già in passato in trasmissione i vari prodotti erano a base di cocco di vaniglia di zenzero erano strepitosi cioè solo il fatto di annusarli si riscopriva quella parte di memoria alfattiva che molti di noi magari non si ricordano perché siamo un po' abituati al profumo chimico e invece questo è proprio naturale fantastico ritestare il gusto naturale delle cose con i drink è fantastico grazie mille ci siamo innamorati quindi Skinny Love è primariamente funzionale e non ludico quindi mentre i cappuccini di frutta nascono troppo buoni per coccolare quelli sono ludici esatto buonissimi cappuccini di frutta Skinny Love ha dato priorità alla funzionalità del mix senza compromessi di gusto quindi non ha aromi non ha voluto aggiungere nulla che lo rendesse forzatamente piacevole ma la sua neutralità rieduca il palato a riconoscere lo zucchero e sale per esempio cosa che noi tendiamo a mangiare troppo salato troppo zuccherato senza accorgersene perché la lingua non è più abituata è vero sì that's correct and so we have some people that e qui c'è una cucina macrobiotica adesso la proverette ci sono persone che dicono io ho delle amiche che hanno detto riprenditelo we have some people on facebook that say oh this is strong but people that are organic that watch your tv they will love it because organic people love my drink persone abituate a mangiare naturale lo apprezzano subito chi invece proprio ha un rigetto totale è perché ha il gusto abituato io penso a coca cola mio marito che vive di taleggio lui non lo berrebbe mai però avrebbe tanto bisogno bene donna ci abituiamo più in fretta però poi quando continuano lo apprezzano nel tempo gli piace di più quindi questo è il motivo non è una dieta io-yo diet questo è importante dire perché hai tutte queste proteine che manchano vaniglia cacao cioccolato non è così un'altra cosa un'altra cosa è molto importante è che quando fai una dieta con dei prodotti con un gusto forte che può essere vaniglia cioccolato fragola magari lo fai una settimana o due poi ti stufi a mangiare solo quei gusti lì perché poi sono 3-4 gusti ma è come la barretta per fare sport io correvo tanto da podista e mi nauseava alla fine cioè quindi questo tipo di neutralità ti permette di poterlo integrare all'infinito insomma quanto vuoi non ti stufi allora veniamo all'assunzione di queste domande in che modo devono essere assolute affinché abbiano un effetto perché ovviamente se io ne bevo un bicchierino così una volta ogni tanto una volta al giorno non hanno quell'effetto desiderato quello della sera non l'abbiamo detto quali sono gli ingredienti principali a differenza di quello della mattina non ha il caffè verde e non ha il tè verde ma ha dentro la curcuma lo zenzero lo zenzero no ho sbagliato scusate la curcuma la zenzero il cumino la cannella e il pepe poi c'è dentro il mandarino il fico d'india l'ananas il limone e anche questo c'è dentro l'acaccia quindi veniamo un pochino all'assunzione io qui mi sono fatta due bicchierini questo se non ricordo male è più giallognolo adesso si è un po' depositato sul fondo ma lo giriamo non fa nulla andrebbe agitato è quello se non ricordo male della sera e poi c'è quello più verde che è quello della mattina adesso noi siamo sera e quindi è meglio assumere questo se no stanotte non dormo più ah beh ah ma grazie prego non c'è non c'è problema quindi come vanno assunti la preparazione giusta è all'interno di uno shaker quindi 750 millilitri di acqua tre grossi cucchiai proprio colmi e si shaker in cold or hot water acqua calda acqua fredda io adesso che è inverno lo faccio con l'acqua calda perché comunque al mattino mi conforta quindi si parte alla mattina così dei cucchiaini così ok si parte alla mattina si parte alla mattina si fa colazione normale si può affiancare alla colazione un cucchiaino di preparazione mattutina con dell'acqua calda come fosse un caffè solubile e poi si aggiunge anche il resto dei 750 millilitri oppure si beve il caffè si fa colazione ma vanno assunti i 750 ml tutti subito oppure nel corso della mattina tra i pasti ah tra i pasti quindi posso sosseggiare in between and I finish my drink after lunch between lunch si e lo si finisce durante il pranzo quindi lo si può anche bere poi come accompagnamento al pranzo perché è bello con un organico lunch ok quindi l'una le due si finisce quindi entro l'una bisogna aver bevuto 750 ml che è il dosaggio della mattina con dentro questi tre cucchiaini belli pieni belli pieni dei schi di love mattina e poi si mangia normalmente poi si inizia il pomeriggio io di solito dopo il caffè dopo il pranzo caffè e poi riempio il pomeriggio questo smart shake qua è molto interessante perché ha il fondo esatto dove si mette una tazza quindi si può portare anche al lavoro sì sì soprattutto si mette i tre cucchiaini qua dentro così alla pomeriggio ti sei bevuto tutta la mattina dai una sciacquata metti la pozione del pomeriggio riempi e ce l'hai sempre con te quindi come siete organizzati e qui c'è l'altro segreto ci sono delle piccole cose per scimmie no questi sono i semi di zucca se poi uno ha voglia di sgranocchiare qualcosa per la prostata sì va bene per la prostata ma che ti gogi insomma giusto per avere uno snack veloce quindi il dosaggio è 750 millilitri tra colazione e pranzo e fine pranzo e 750 millilitri dopo il pranzo fino alla cena ma fino anche alla notte cioè l'importante è andare a dormire che è finito non è che devo finirlo entro cena quindi a me capita anche me l'ha insegnato lui giornata lunga mi rimane ancora lui lo bevo prima appena mi alzo lo bevo al mattino così lo svuoto l'importante è che al ciclo lo si svuota bevendolo ovviamente quindi i primi risultati dopo quanto tempo si vedono ovviamente uno un filo di alimentazione la deve mantenere perché se poi si abusa a tavola mangiando di tutto di più allora la parità di peso mangiamo troppo quindi sicuramente ridurre le quantità anche se aiuta perché è proprio perché ti passa un po' di fame che mangi meno è incredibile quando vai al mare vedere i bambini come crescano in larghezza invece che in altezza in alcuni casi di più di una volta quindi una cosa di molto sacro subito energia primo effetto sei energetico dal quarto al decimo giorno magari non vai più a prendere il cioccolato niente biscotti di farro ma il cioccolato basta invece che sei cioccolato belga come si fa a dire di no le nostre fave quindi il secondo risultato è proprio il palato che cerca cibi più neutrali dal punto di vista del gusto come un vecchio surfista ha sempre dolori alle giunture quindi il dosaggio della curcuma è molto alto con il pepe abbiamo molti ieri che lo adorano abbiamo anche una testimonianza la piperina abbiamo sul canale youtube c'è una maestra di yoga che dice non ho più i dolori che avevo di legamenti si è molto contenta è molto importante dire che non è un prodotto dei miracoli è sanare è lento e continua finché non trovi un tuo equilibrio però è molto emblematico che lui che viene dal mondo comunque salutistico dove ha sempre mangiato bene macrobiotico famiglia attentissima all'avanguardia ed era grasso in sovrappeso sicuramente avrà tentato di mettersi a dieta in passato non ha avuto la forza di volontà perché ha questi attacchi di fame come molti è in buona compagnia è una questione anche di quantità proprio quantità ha detto che poi come carattere privarsi di cibo era arrabbiato tutto il giorno quindi rovinava tutto il suo entourage e poi anche il problema di molte diete cioè riesce a privarti per una settimana 15 giorni un mese tre mesi adesso invece sorride contento molto contento molto contento bene io la ringrazio per aver condiviso con noi questa sua scoperta quindi non vogliamo far provare ci abbiamo giusto ci siamo dimenticati volete assaggiare ci tengo allora l'abbiamo detto che si può bere sia caldo che freddo prego ladies first oh yes io l'ho fatto freddo si è staccato il microfono attenzione ma si può bere anche caldo quindi in tutte e due le versioni a seconda di quello che piace di più si può bere anche il shakerato che è ancora meglio che così abbiamo il dosaggio completo della giornata sorseggiare fa molto bene quindi ha effetto diuretico abbiamo detto di allora non ha non ha l'effetto diuretico forzato ha l'effetto diuretico degli ingredienti che ci sono dentro io sento molto lo zenzero e la curcuma soprattutto per il litro e mezzo di acqua che bevi quello ha una sua diureticità naturale sì e la curcuma si sente però io devo dire che sono sicuramente questo è salutare ma io che sono amante dei cappuccini frutta la vaniglia e il cocco mi sono rimasti in mente bravissimo Alain grazie è davvero un grandissimo ricercatore complimenti continui così ah grazie vogliamo dire che è da poco che ci sono qui in Italia so che prima non voleva parlare in Sicilia ha portato un bel dono sì ha portato un bel dono la Befana sono disponibili online saranno disponibili dai nostri punti vendita che nel frattempo sono ben 70 da quando ci siamo conosciute i cappuccini sì piacciono molto beh sono sempre di più comunque le persone che ricercano abbiamo la qualità in quello che mangiano ed è molto difficile trovare dei prodotti che siano salutari comunque buoni gustosi tra le altre cose devo dire che io quello col cocco l'ho usato per la vaniglia l'ho usato come base delle mie torte senza glutine molto semplici però danno quel sapore che è veramente beh l'abbiamo visto anche con lo chef Stefano Broccoli vengono utilizzate anche in alta cucina vegana ma hanno utilizzo per esempio il ginger love e il detox lo usano tantissimo i preparatori atletici abbiamo non posso dire la squadra ma c'è una famosissima squadra di serie A che sta provando il detox e il ginger per i suoi atleti più attenti alla salute hanno sempre gli acciacchi questi calciatori sì perché il ginger love aiuta molto che a base di zenzero per il raffreddore per i sintomi per combattere con lo zenzero e l'arancia di non prendere dei malanni di stagione sì davvero interessante allora molti degli ingredienti sono italiani perché noi comunque come Italia siamo molto avanti con il biologico limone aranci limone arance bergamotto bergamotto sì gli agrumi bravissimo Len grazie così aiuta anche l'economia italiana l'agricoltura biologica che dobbiamo veramente sostenerla perché è il nostro futuro io vi ringrazio adesso poi daremo ovviamente tutti i riferimenti per poter trovare questi prodotti mentre per quanto riguarda Cecilia ovviamente Len non verrà più almeno che se si affrezioni la nostra ammittente ci venga ancora a trovare in Italia anzi auguro un buon rientro in Belgio quando partirà si ferma qualche giorno questa sera ah proprio cioè toccata e fuga non è non abbiamo detto che io pensavo all'inizio che quando ho conosciuto Cecilia Lombardia fosse Lombardia ma in realtà perché dicevo probabilmente sono Lombarde e quindi sono affezionate non è così è la piazza in cui è nato il nome del negozio del macrobiotico che era Lombardia quindi c'è stato proprio una cosa diciamo una congiunzione astrale e ci siamo affezionati e tutti lo chiamano Lombardia anche i nostri clienti ormai siamo Lombardia drinks e con orgoglio è vero allora per quanto riguarda appunto i prodotti ovviamente oggi abbiamo parlato di skinny love però sono tantissimi altri i prodotti dei quali abbiamo parlato anche nelle scorse edizioni per esempio i cappuccini di frutta che io amo allora potete telefonare allo 0256 56 78 74 potete mandare una mail a info chiocciola lombardiadrinks.it oppure mandare trovando sul sito tutte le indicazioni perché è davvero molto fornito ci sono anche i video trovate tantissime curiosità che è lombardiadrinks.it novità in arrivo visto che Cecilia è sempre in fermento non ama mai stare ferma d'altra parte lei è anche un'imprenditrice in altro settore quindi collaboreremo con una nutrizionista che conoscete bene a Telecolor ma non dico chi è e invece a tutti gli spettatori di Telecolor che vengono a trovare le degustazioni e mi fa tantissimo piacere fatevi riconoscere nel messaggio dell'ordine telefonate perché c'è sempre un omaggio per voi che sia lo shaker con skinny love o la busta omaggio a noi fa veramente tanto ci scalda il cuore perché vi fate riconoscere ci volete bene e questo lo sentiamo mi fa molto piacere ovviamente io ho brincato tutto sto scherzando molto buoni domani spero di essere un po' più silhouette io vi ringrazio tutti quanti ringrazio anche Alen io le invito a continuare con questa sua ricerca a girare per il mondo quello che lei fa è molto è molto interessante io mi auguro che ci siano tanti imprenditori ricercatori come lei che che continuano su questa strada biologico vegano senza glutine sempre meglio senza zucchero grazie ancora davvero a tutti quanti siete tutti bravissimi grazie Cecilia per me ogni settimana è un grande arricchimento personale ho davvero una grande fortuna di poter fare questa trasmissione perché posso crescere e spero che questa mia crescita personale sia anche la vostra io vi auguro un buon proseguimento di serata vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e arrivederci alla prossima puntata